La provincia di Piacenza è divenuta un'importante crocevia per i narcotrafficanti italiani e stranieri. Anche le problematiche connesse allo sfruttamento della prostituzione, dell'immigrazione clandestina e della riduzione in schiavitù hanno raggiunto livelli preoccupanti. Di rilievo è la presenza della criminalità organizzata. È davvero inquietante il rapporto 2014 della Fondazione Antonino Caponnetto sulle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Il lavoro, che riguarda tutta l'Emilia Romagna, è stato presentato questa mattina in provincia. A Piacenza, secondo questa indagine, è sempre più forte e radicata la presenza dell'Andrangheta, non meno rilevante quella di Cosa Nostra e della Camorra. In tutta Italia, in tutta l'Emilia Romagna, in tutta Europa e nell'area del Mediterraneo non esistono più isole felici. Indubbiamente le organizzazioni mafiose, quando vengono in un territorio di crocevia e di passaggio come Piacenza, si comportano in modo diverso da come si comportano le regioni meridionali. Ma ciò non significa che il loro pericolo ci sia e che sia preoccupante la loro sempre maggiore infiltrazione. Tenete presente che in Emilia Romagna il fatturato complessivo dell'organizzazione mafiose pare al 20 miliardi di euro. Si parla di mafia che si inserisce soprattutto sfruttando la crisi economica in territori come il nostro. Sicuramente questo è uno dei fattori ma non solo e non è nemmeno l'unico. Si inserisce con la crisi economica ma tende a inserirsi a prescindere. Anche perché in determinati contesti le persone su questi territori non sono abituate a riconoscerle. E allora non c'è niente di meglio a volte che non riconoscerli per poter lasciarli liberi di fare. Noi ovviamente non dobbiamo lasciarli liberi di fare. In platea i ragazzi del liceo Colombini con cui la fondazione Caponnetto e l'amministrazione provinciale hanno effettuato un percorso sulla legalità.